Rieccoci per questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv, iniziando oggi con la Lotteria Italia, ci sono stati i biglietti vincenti, vogliamo iniziare con questa notizia, il biglietto da 5 milioni è stato venduto a Bologna, scrive il Quotidiano del Sud, mentre quello di 2 milioni e mezzo è stato venduto a Roma, poi un altro premio da 2 milioni venduto a Fonte Nuova, Roma, poi ancora 1 milione e mezzo di Euro venduto a Roma, quindi Roma praticamente su 4 biglietti, 3 sono stati venduti a Roma e poi 1 milione è stato venduto a Parma, il premio da 1 milione, poi la fortuna bacia anche la Calabria, c'è stato un tagliando vincente anche a Rende, questo è appunto come inizio del nostro appuntamento con i giornali in tv, sempre nell'edizione Calabria del Quotidiano del Sud, acqua si cambia, idrico l'avvio della riforma, visto dai comuni, i ruoli orali in cassa sorical, dall'autority trasmesse ai comuni le prime indicazioni operative, papasso che il delegato Anci, la nuova legge c'è e va attuata, nessuna paura, ma non serve chiarezza. E a proposito di acqua, c'è stato un caso veramente con tanto e tanto spreco d'acqua potabile, fiumi praticamente accascate, è successo a Lamezia, infatti leggiamo dalla pagina del Quotidiano del Sud di Lamezia, un fiume di acqua potabile sprecata, l'ennesima grave rottura nella condotta idrica dell'acquedotto Sambuco nei pressi di Via Marconi, ci sono tante zone cittadine interessate ai disagi per il guasto, per l'acqua che poi ovviamente è stata sospesa alla regolazione per riparare questa ennesima rottura della condotta della Sorical, quindi praticamente grossi disagi per le zone che sono rimaste senza acqua, San Biasse centro storico, centro urbano sempre San Biasse, Via Cerasuolo, Via delle Rose, Viale San Bruno, Caronte, San Sidero e San Terme, quindi ennesima grave rottura dell'acquedotto Sambuco della Sorical, vediamo qui proprio delle vere e proprie cascate, tutta acqua potabile che si è persa. C'è questa notizia ancora sul Quotidiano del Sud, in TV i due lamettini premiati al Quirinale per la cura dei disabili, quindi si è parlato di una lamettina a nuove eroi, su Rai Play, il racconto di Ivana Perri e di suo marito Matteo Mazzarotto. Poi sempre sulla Mezzia, aree verdi affidate dal Comune per combattere abbandono e degrado, per tre anni è stata affidata la gestione alla Proloco della Mezzia e a un'associazione per la gestione dei lungomari Falcone e Borsellino e del lungomare di Ginepri, mentre è stata anche affidata la gestione del parco dedicato a Tramonte e Cristiano. Sempre sulle pagine di La Mezzia c'è l'inaugurazione di una nuova scuola a decollatura, a San Bernardo di decollatura, una scuola del futuro a energia zero, quindi edificio rinnovato grazie agli interventi di efficientemente energetico, quindi si tratta della scuola primaria di San Bernardo di decollatura. La festa dell'Epifania all'insegna di gioia e fraternità per gli ospiti della casa di riposo Tamburelli di La Mezzia Terme. Queste le notizie di La Mezzia, purtroppo c'è stata una grave tragedia nelle ultime ore in Calabria, a Bagnara Calabra una bimba di 10 anni è stata travolta e è stata uccisa sull'autostrada, mentre l'auto con cui viaggiava questa bimba ha avuto un guasto, la bimba è scesa dall'auto ed è stata travolta, quindi è una tragedia incredibile. Poi Regione Calabria, Valzer di incarichi al Consiglio regionale con la surrogo di Arruzzolo e Loizzo cambiano quattro poltrone. A Vibbo i legali del boss Mancuso dicono che Mantella e il collaboratore di giustizia mente. Poi i centenari di molocchio sul National Geographic, scrive il Quotidiano del Sud, poi azienda Dulbecco, l'università ok al protocollo, ma i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non servono. Comune di Catanzaro, il 2023 l'anno dei nuovi assunti, si rafforzerà il personale, poi Reggio Calabria, conferenza dei sindaci, acqua perplessità sul riordino. Poi elezioni provinciali a Vibbo, Peppe Condello rompe gli indugi, disponibile a candidarmi, poi a Crotone, danni alla statua di Pitagora a causa di un surriscaldamento. Poi il libro quando parlò di limiti e meriti della scienza. Purtroppo un'altra brutta notizia, la morte di Gianluca Vialli, il mondo del calcio, ma non solo il mondo del calcio, piange l'uomo e il campione. Il ricordo Vialli e l'impegno sociale con Massimo Mauro e il calabrese Massimo Mauro. Era malato da tempo Gianluca Vialli, come purtroppo ricordiamo, non ce l'ha fatta l'ex campione di Cremonese, Juventus, Sampdoria. Niente da fare dunque anche per Gianluca Vialli, tanto lo spazio dedicato oggi al campione che è stato Gianluca Vialli, non solo campione di calcio, una grande persona con una grande umanità che viene ricordato da tanta gente, insomma veramente grandi ricordi per Gianluca Vialli che purtroppo ha cessato di vivere all'età del 64, all'età di 59 anni. Sulla prima pagina del quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, spoil system, fine dei giochi, poi ancora al Sud la vita costa meno che al nord, ma il potere d'acquisto è lo stesso. Poi le energie di innovabili mettono il turbo ok per nuovi impianti da 65 miliardi. Poi autonomia, una sponda nordista per la proprietà dei sindaci del Sud. Andiamo anche alle pagine interne del quotidiano del Sud, edizione Calabria con le notizie di respiro nazionale. Primarie del PD, i Democrat divisi sul voto online, avanza l'ipotesi di affianchiare ai tipici gazebo una consultazione web. Incidenti sul lavoro Calderone, rivedere subito la normativa, dice la Ministra Calderone dopo la morte del giovane stagista De Seta. Dopo il caso De Seta dal governo non ci aspettiamo solo annunci, la CGL sulla revisione delle norme annunciate. Purtroppo la tregua annunciata non regge sul conflitto Russia-Ucraina, scrive appunto il quotidiano del Sud, sempre per il nostro appuntamento con i giornali in TV. Andiamo anche a notizie che riguardano altri territori della Calabria, andiamo alla provincia di Vibbo, Vibbo è provincia, si parla molto delle elezioni provinciali, Peppe Condello rompe gli indugi, lancia un appello agli scettici della coalizione di centro-sinistra, metto a disposizione la mia candidatura civica in alternativa alle forze di centro-destra. Poi nel Vibbonese corsi di laurea sul turismo e auroalimentare, dice lo schiavo, il consigliere regionale, lo schiavo che appunto interviene su questa vicenda. Poi ancora andiamo in provincia di Vibbo, Filadelfia, nuovo sold out per il concerto di Capodanno, sala teatro dell'auditorium, gremita per l'esibizione, questo era appunto sulle pagine del quotidiano del Sud. Ci avviamo anche alla conclusione di questo nostro appuntamento, come sempre ci avviamo alla conclusione con con lo sport, lo sport che oggi è uno sport in lutto praticamente con la morte di Gianluca Vialli, di cui abbiamo letto nella prima pagina e ci sono veramente tanti riferimenti alla morte di Gianluca Vialli. Eccolo qui, Vialli, il mondo del calcio, piange l'uomo, è il campione. L'ex calciatore morto a Londra all'età di 58 anni, lottava da 5 anni contro una brutta malattia, i funerali in forma privata. Poi la carriera, senso del gol e grande tecnica, Gianni Brera lo soprannominò Stradi Vialli, dallo scudetto con la Sampdoria all'europeo accanto a Mancini alla Champions League con la Juventus da capitano di quella Juventus di Marcello Lippi. Questo era appunto sullo quotidiano del Sud. Poi andiamo alle squadre calabrese, al calcio regionale, Cosenza, l'attesa è spasmodica, Fiordelino arrivo o no, la società affonderà il colpo per il centrocampista, si chiede appunto il quotidiano del Sud a proposito del mercato. Poi Regina Dutu torna alla Fiorentina, il mercato entra nel vivo, in attacco restano attuali i nomi di Coda, Forte e Lamantia, poi risolto anticipatamente il prestito con i Gigliati. Ora si punta su Baieie del Torino, quindi si parla appunto del mercato. Poi in Serie C Catanzaro, testa al Taranto, Vivarini il 2022 sarà anno straordinario, ora però pensiamo solo al presente. Il tecnico non si fida della squadra di Capuano, rispetto all'andata è cambiata molto, quindi Catanzaro che gioca con il Taranto. Crotone, l'attaccante Dursi è rosso-blu, quindi ufficializzato l'ingaggio dell'ex Foggia che ha firmato fino al 30 giugno del 2025. Questo era appunto sullo sport, sul calcio del quotidiano del Sud, riprende anche la Serie D, la Serie D che osserverà la diciottesima giornata, cioè il primo turno del Girona di Ritorno con Canicati, la mezza termica, la mezza termica ha ottenuto comunque mercoledì scorso il pass agli ottavi di finale, giocherà il 25 gennaio al Dipolito per gli ottavi di finale con il Trapani, gara secca. La gara era prevista l'11 gennaio, è stata spostata dal 25 gennaio perché il Trapani deve recuperare una partita di campionato proprio l'11 gennaio. Quindi poi c'è Castrovillari, Licata, Catania, Ragusa, Cittanova, Di Reale, San Catandese, Sant'Agata, Locri, Sant'Americilento, Mariglianese, Trapani, Paternore, Alaversa, Vibonese, San Luca. Vi ricordiamo che di tutto questo ne parleremo lunedì prossimo, riprenderemo con gli appuntamenti di A Tutto Calcio a partire dalle 20.45. In eccellenza c'è Acrireggio, Med, Bocale, Isola, Capo Rizzuto, Gioiese, Promo, Sport, quindi prima e seconda in classifica di nuovo di fronte, Gioiosa, Branca Leone, Paolana, Morrone, Rende, Scalea, Sersale, Soriano, Stino, Monasterace, Gallico, Catona. Questo appunto è il quadro completo anche per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Ma come dicevamo appunto di tutto questo ne parleremo nel corso dell'appuntamento con A Tutto Calcio che riprenderemo appunto dopo la pausa natalizia A Tutto Calcio l'appuntamento per parlare di Serie B e con notizie, approfondimenti, interviste, immagini, highlights, ne parleremo appunto dalla Serie B, poi della Serie C e come detto appunto ci occuperemo anche della Serie D e dell'eccellenza. Ma a proposito di sport leggiamo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali che ovviamente sono tutti dedicati alla morte di Gianluca Vialli, infatti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport l'amico geniale Gianluca Vialli appunto dopo 5 anni di malattia appunto Gianluca Vialli purtroppo è scomparso. Poi c'è una foto sul Corriere dello Sport Stadio, la foto l'abbraccio tra Vialli e Mancini non appena l'Italia ha vinto l'Europeo a giugno del 2021, addio a Vialli fuoriclasse in campo e come uomo, un abbraccio per sempre, c'è la foto appunto emblematica. Poi su tutto sport c'è Gianluca Vialli che alza la Champions League, l'ultima Champions League vinta dalla Juventus su tutto sport, grazie di tutto. Sul quotidiano invece sportivo ovviamente anche spazio alla scomparsa di Gianluca Vialli che è appunto morto a Londra, quindi anche la foto di Gianluca Vialli sul quotidiano sportivo, eccolo qui Vialli, anzi c'è la foto di Inzaghi dove c'è appunto che parla di Inter, Inter Silvio ancora tu, questo era appunto sul quotidiano sportivo che in ogni caso è la prima pagina del giorno precedente, quindi ecco perché non c'è il riferimento alla morte di Gianluca Vialli che comunque la sua morte è stata anche titolata da tutti gli altri quotidiani sul Corriere della Sera, infatti c'è l'abbraccio, eccolo qui, addio a Vialli il campione coraggioso e poi anche sul Corriere della Sera, Ucraina fallita la tregua di Putin, bomba e raid, questo era sul Corriere della Sera che appunto titola anche, fa vedere anche la foto di Gianluca Vialli, anche sul Repubblica, Vialli il campione coraggioso titola Repubblica, poi la stampa, eccolo qui, grazie capitano, la foto di Vialli che alza la Champions League, poi libero, fratello d'Italia lo definisce appunto Vialli, poi il giornale, ciao capitano coraggioso, poi andiamo anche sul fatto quotidiano Capitan Sorriso, su il fatto quotidiano che titola appunto così la morte di Gianluca Vialli, poi ancora su altri quotidiani, eccolo qui la foto di Vialli su domani, domani titola il gol con cui Vialli rese pubblica la sua malattia, insomma tanto tanto riferimento appunto alla scomparsa di questo campione, anche il mattino di Napoli, campione vero con la foto appunto di Vialli, il resto del Carlino, coraggio e sorriso lo definisce appunto il resto del del Carlino, poi anche su Avvenire, quotidiano cattolico c'è la foto di Gianluca Vialli, addio Vialli, piccolo, grande, lord del calcio lo definisce appunto il giornale, l'Avvenire, il giornale cattolico Avvenire, con cui noi concludiamo questo nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv, sempre sui nostri canali 94 e 98 del Digitale Terrestre, vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook STV, nonché anche sul nostro canale YouTube, ogni giorno come sempre con voi, con i giornali in tv alle 14, alle 20 e alle 7 e 30, vi ricordo anche come ho detto che lunedì prossimo ci rivedremo per riprendere anche l'appuntamento con a tutto calcio, come sempre ogni giorno, ogni lunedì con voi, riprenderemo la prima puntata del 2023 alle 20 e 45, poi ci saranno le repliche del martedì alle 14 e 30, del mercoledì alle 22 e 30, sempre su STV, sempre in diretta anche sulla pagina Facebook STV e poi sulla piattaforma YouTube. Da Pasquale Lenture è tutto, come sempre grazie per l'ascolto e l'attenzione e con i giornali in tv ci rivedremo per le prossime edizioni. Grazie per la visione!